Per l'intercessione dei nostri santi protettori, rendi per noi l'opera della nostra iniziativa, perché tutti i tuoi, mediante la revisione di peccati, siano rigenerati nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Adesso ci ritiamo seduti, ecco, vengono portati a valutare appunto le chiame della nostra città, dove sottunzio significa, ecco, servizio a Dio e a di parte. Non potere, ma servizio a Dio e a di parte. Grazie. 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 Grazie.